I comitati ambientalisti hanno inviato al sindaco di Batipaia una diffida ad adempiere all'ufficio di tutela della salute dei cittadini, vista la perdurante gravità, si legge nella nota stampa, in cui versa il territorio di Batipaia, devastato da uno spregiudicato sfruttamento per la lavorazione di rifiuti di ogni genere. A chi sta diffondendo in giro la falsa notizia che il comitato Batipaia dice no, non sia più operativo, proseguono gli attivisti, rispondiamo che il comitato è più forte e rigoglioso che mai, come un albero che perde le foglie secche ma avendo radici forti ne genera di nuove, più belle e più verdi. Noi non ci arrederemo mai.